Il divorzio in Italia dura più della pena per l'omicidio dei coniugi, almeno prima che il legislatore accorciasse i tempi delle separazioni. Il paradosso è stato esposto durante un convegno immortalato in un video, che tra l'altro sta impazzando letteralmente sull'web, da Pier Cabillo Davigo, presidente della seconda sezione penale presso la Corte Suprema di Cassazione e membro togato del CSM. Il ragionamento serve a smascherare un sistema giudiziario criminogeno, sostiene il magistrato. Avvocato Paolo Pasquinuzzi, che è di nuovo sugli schermi di giustizia caffè, ma dunque conviene davvero, conviene più ammazzare la moglie che intraprendere una pratica di divorzio in Italia? Allora, credo che queste affermazioni del dottor Davigo siano del tutto inappropriate. È pur vero che le ha fatte, credo, nel corso di un convegno diversi anni fa, quindi in un momento in cui ancora non c'era la legge sul femminicidio e i tempi del divorzio erano diversi, ma non è tanto il merito delle sue affermazioni, ma le modalità e il fatto che sia un soggetto importante, istituzionale, che riveste una carica, perché è una persona che non solo è presidente della seconda sezione della Corte di Cassazione, ma è anche membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo video che è davvero diventato virale è stato definito come un video ironico che fa un paradosso mettendo in paragone il matrimonio e l'uccidere la moglie. Al di là di questo, che è grave come affermazione, ma uno può anche dire l'ha fatto per scherzo, credo che proprio per il suo ruolo lo scherzo sia del tutto inadeguato. Lo hanno recuperato in questi giorni, non so quale sia lo scopo di averlo recuperato, comunque in questo momento in cui il dottor Davigo viene contestato fortemente dai penalisti italiani, in quanto è stata inviata una lettera al Consiglio Superiore della Magistratura, invitando lo stesso Consiglio a rivedere la nomina del dottor Davigo a partecipare all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano domani. Il Consiglio Giudiziario ha risposto che questa proposta, questa lettera, questa comunicazione era inaccettabile e i magistrati hanno fatto fronte comune, nonostante molti magistrati non condividano le posizioni del dottor Davigo sulla prescrizione, sulla presunzione di non colpevolezza, perché per quanto riguarda il dottor Davigo la presunzione è di colpevolezza e poi dopo si starà a vedere. Se qualcuno ha un processo è perché qualcosa ci deve essere. Ormai questo è un messaggio che passa attraverso molti magistrati, attraverso il Ministro, soprattutto attraverso il Ministro e la gravità sta proprio qui, perché ognuno può pensarla come vuole, però su certi principi costituzionali non si può derogare. Assolutamente, non ci sarebbe bisogno di maggiore equilibrio, anche se abbiamo l'idea che, visto che in Italia dal punto di vista politico e in campo politico siamo sempre in campagna elettorale, che lo fossimo anche magari in campo giudiziario, in campo giuridico. Ma io direi che l'equilibrio è un requisito fondamentale per i magistrati che devono decidere e soprattutto non si deve avvertire il senso del pregiudizio, perché il magistrato è terzo, al di là della funzione requirente o giudicante. Il dottor Davigo è stato per anni, pubblico ministero, lo ricordiamo con mani pulite, oggi è un giudice. Un giudice, francamente, non dovrebbe, un giudice di legittimità non dovrebbe fare quelle esternazioni. E oggi, notizia, se si guarda internet, giornali, eccetera, risulta che l'Associazione Nazionale Magistrati abbia fatto una dichiarazione dicendo che l'Unione delle Camere Penali vogliono togliere, diciamo, la parola al dottor Davigo e quindi impedendo l'esercizio di un diritto di libera espressione del pensiero. Agni elettorale, mi scusi. Allora è vero, la domanda era positiva, affermativa. Io non sono d'accordo con questa tipologia di magistrato mediatico, francamente, perché il magistrato dovrebbe, come si dice sempre, parlare attraverso le sentenze. Questo magistrato ha la caratteristica invece di dire e soprattutto di fare interviste contravaglio, con tutti quelli che non risultano essere a favore del diritto di difesa. Vorrei solo dire un'ultima cosa. Alcuni soggetti che rappresentano i centri antiviolenza hanno addirittura detto che questo video appare come un'istigazione al femminicidio. Credo che sia grave l'affermazione del dottor Davigo. Probabilmente lui scherzava, ma quello che veramente fa impressione di questo video è sentire le risate sottostanti. Questo messaggio che passa è un messaggio veramente grave e devastante. Grazie avvocato. Grazie a lei.